Questo saggio, scritto da Marco Del Mastro e Antonio Nicita, parla dei big data, se vogliamo dirlo all'americana, e cioè quell'ammasso di informazioni che ormai costituiscono un tale tesoro che qualcuno ha scritto sono la risorsa più preziosa del mondo, che non è più il petrolio, ma sono proprio i dati. Dati che ormai riguardano, investono e entrano dappertutto in ogni sfera della nostra vita pubblica e privata, dominati da quelle che chiamano le big five, le grandi cinque, cioè Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Che cosa fanno questi big data? Mettono insieme delle tali masse di informazioni su cuiunque usi la rete da costituire delle vere e proprie riserve dove molti aspetti della nostra vita e delle nostre, per non parlare delle ricerche o dei siti che andiamo a visitare, vengono accumulati a una velocità tale che rende quasi ormai indispensabile andare lì invece che cercare sui vecchi testi come si faceva fino a non molti anni fa. Questa efficienza algoritmica, scrivono i due autori, è il risultato di un patto implicito. Sentite questa. Per avere le migliori informazioni dal web anche noi dobbiamo rivelare le informazioni che ci riguardano. È un doubt death. Tu mi dai informazioni attendibili, spesso e veloci, io ti dico chi sono, quali sono i miei gusti, le mie preferenze di acquisto, spesso sessuali, spesso politiche e questo è il patto al quale ormai siamo legati, con vantaggi. Per esempio loro dicono nel settore sanitario c'è un ospedale in Canada il quale sulla base dei big data ha permesso di monitorare le pulsazioni e il respiro dei neonati e tramite appositi algoritmi di prevedere possibili infezioni nelle 24 ore precedenti alla nascita. Questo ha portato a una riduzione del numero delle operazioni chirurgiche esplorative a fine diagnostica. Oppure nel settore della grande distribuzione a Seattle e Chicago negli Stati Uniti si trovano i supermercati Amazon Go, i primi senza casse all'uscita, tu prendi un barattoletto di pomodoro dallo scaffale, immediatamente il prezzo di quel barattoletto viene addebitato sul tuo conto. Gli articoli rimossi dagli scaffali vengono addebitati automaticamente sul conto del cliente una volta che ha lasciato l'uscita. Naturalmente in questa nuova vita c'è anche chi ci rimette molto e sono per esempio i media come i giornali stampati tradizionale. D'altra parte proprio nel campo delle informazioni che è quello dove si sono verificate le innovazioni più drastiche vale, scrivono i due autori, quella famosa legge di Grisham applicata all'informazione per cui, diceva Grisham, la moneta cattiva scaccia quella buona, l'informazione a basso costo e di bassa qualità su internet può creare problemi a coloro che producono informazione di qualità. E questo è un fenomeno, ahimè, che si può riscontrare ovunque, Italia compresa.